A Pierluigi Streparava, commissario generale Emo 2015, chiediamo che edizione di Emo dovremo attenderci dal 5 al 10 ottobre 2015 a Milano. Emo 2015 è un'edizione eccezionale, 120.000 m2, 1.500 espositori, 150.000 visitatori attesi, 60 convegni già prenotati, questi mi sembrano dei numeri estremamente interessanti per un'edizione che si tiene a Milano dopo più di 7 anni di crisi generale dell'industria.